5 ricette a base di zenzero per perdere peso Lo zenzero è una delle spezie più conosciute in tutto il mondo, non solo per la sua versatilità gastronomica, ma anche perché è stato dimostrato che possiede composti medicinali che apportano grandi benefici all'organismo. Uno dei motivi per i quali questo alimento ha acquisito grande fama negli ultimi anni è perché agisce come un ottimo integratore per le persone che cercano di perdere peso in modo sano. Lo zenzero, inoltre, aiuta a controllare l'ansia da cibo, stimola la depurazione dell'organismo e combatte la ritenzione idrica, la quale impedisce di raggiungere gli obiettivi prefissati, anche se si seguono buone abitudini. Per chi non ci ha ancora provato, di seguito condividiamo 5 interessanti modi per assumere lo zenzero a tale scopo. Provateci. Il pompelmo è uno dei frutti più indicati per le persone che soffrono di sovrappeso o obesità. È povero di calorie e contiene nutrienti essenziali che favoriscono la perdita di peso. Insieme alla radice di zenzero, potenzia il suo effetto dimagrante, per migliorare i risultati. Potete preparare questa semplice ricetta. Ingredienti. 2 pompelmi 5 cucchiaini di zenzero grattugiato, 50 gr, 1 litro d'acqua miele, opzionale. Procedimento. Fate bollire l'acqua a fuoco medio per 5 minuti, aggiungete lo zenzero e lasciate riposare 10 minuti. Filtrate il liquido, aggiungetevi il succo di pompelmo e un po' di miele, per addolcire. Assumete un bicchiere di questa bevanda a digiuno e la restante dopo i pasti principali. La combinazione di cannella e zenzero è in grado di accelerare del 20% il metabolismo e migliorare la capacità del corpo di liberarsi dai grassi. Ingredienti. 1 litro d'acqua 4 cucchiai di zenzero grattugiato, 40 gr, 4 stecche di cannella. Procedimento. Fate bollire un litro d'acqua, aggiungete lo zenzero e le stecche di cannella e lasciate riposare per 15 minuti. Prima di servirlo, filtrate il liquido con un collino. Bevetene un bicchiere a digiuno e il restante durante la giornata, tre volte al giorno. Assumete questo rimedio per due settimane di seguito, interrompete per un e poi ricominciate. Il tè allo zenzero e limone è una bevanda disintossicate, che stimola la pulizia generale del corpo al fine di migliorare ognuna delle sue funzioni. Grazie alle sue proprietà, rafforza il sistema immunitario, migliora la circolazione e favorisce la perdita di peso. Ingredienti. 1 litro d'acqua 4 cucchiai di zenzero grattugiato, 40 gr, 2 limoni. Preparazione. Fate bollire un litro d'acqua, aggiungete lo zenzero grattugiato e lasciate riposare per 10 minuti. Prima di assumerlo, aggiungete il succo di due limoni. Iniziate assumendo una tazza a digiuno, una dopo pranzo e un'altra dopo cena. Assumete questo rimedio tre volte alla settimana, per due mesi. Nonostante anche in questa ricetta si uniscano i benefici del limone e dello zenzero, è molto diversa da quella precedente. In questo caso, gli effetti dimagranti vengono potenziati dai nutrienti del cetriolo e dalle foglie di menta in una bevanda rinfrescante, che può essere assunta a qualsiasi ora del giorno. Ingredienti. 1 cucchiaio di zenzero grattugiato, 10 gr, 8 fettine di cetriolo con la buccia 2 limoni 10 foglie di menta 1 litro d'acqua. Procedimento. Lavate e disinfettate bene tutti gli ingredienti. Tagliate limoni a fettine. Mettete tutti gli ingredienti in una brocca e aggiungetevi il litro d'acqua. Lasciate riposare tutta la notte e assumete il composto a digiuno. Bevete un bicchiere di limonata a digiuno e utilizzate la restante per idratare il corpo durante la giornata. Assumetela almeno tre volte a settimana. Non cè un tempo limite per il consumo. Frullato di carote e zenzero. Se preferite beneficiare delle proprietà dello zenzero tramite un frullato naturale, provate questa ricetta con le carote, che favoriscono la disinfiammazione del ventre e la perdita dei chili in eccesso. Ingredienti. 4 carote 1 mezzo cucchiaio di zenzero grattugiato, 5 gr, un'arancia 1 tazza di acqua calda, 250 ml. Procedimento. Mettete le carote e lo zenzero nel frullatore, e frullate fino a che i due ingredienti non si saranno mescolati per bene. Facilitate il processo aggiungendo il bicchiere d'acqua. Spremete un'arancia e aggiungete il suo succo al mix precedentemente preparato, frullate per qualche secondo, affinché risulti un composto omogeneo. Bevetelo appena fatto, minimo una volta al giorno, tutti i giorni. Per notare i risultati, dovete assumerlo per almeno un mese. Tutte queste ricette a base di zenzero sono eccellenti per perdere peso senza soffrire o sottomettersi a diete troppo restrittive. L'importante è assumerli all'interno di un'alimentazione bilanciata, attività fisica e altre buone abitudini di vita. L'importante è un'alimentazione bilanciata, attività fisica e altre buone abitudini di vita.